Allora, chiariamo, per la partita di venerdì, anche se non ho fatto il video quindi non si capiva molto bene, sono incazzato, ero incazzato e sarò incazzato, vabbè domani c'è il derby di Coppa Italia quindi magari se riusciamo a fare una buona prestazione, a vincere, segnando magari anche, sarò un po' meno incazzato, però comunque anche se non ho fatto il video veramente ero un fiume in piena totalmente e forse anche che è stata quella la ragione. Era una partita da vincere, una partita da vincere e francamente è abbastanza, ero sicuro anche che ce l'avremmo potuta fare, prima della partita però mi sono ricordato Gino di Blessin ha pareggiato quattro volte, certo con Salernitana, Venezia eccetera, però ha comunque pur sempre pareggiato quattro volte, quindi accotemevo una partita tipo Irlanda del Nord Italia per fare questo paragone e di fatti più o meno così è stato, c'è il loro pressing alto, c'è veramente limitato di idee, nonostante ciò 20 tiri ogni volta, mai uno che sia uno concretizzato, altre prestazioni veramente macabre dei nostri attaccanti, oltre che di barella e altre insufficienze. E tra l'altro abbiamo anche rischiato di perdere, perché comunque non è che non abbiamo proprio subito niente, però cancellando un attimo la partita di venerdì, perché ormai fare il video adesso su quella partita non ha senso, non ha senso, Neschio mi stai rompendo i coglioni, scusate se lo dico ma mi stai veramente rompendo il cazzo, cosa c'entra? C'entra, c'entra qualcosa vedete che c'entra, perché io ho fatto sto titolo? Ecco perché, cioè da quando lui, da quando si è messo in testa, da dopo il derby di fare ogni volta, o dopo ogni giornata di campionato, la situazione in classifica delle big, cioè dall'Inter prima, poi il sorpasso del Milan, e poi l'altra volta Napoli, eccetera eccetera, perdiamo sempre, o pareggiamo? Cioè da quando fa questa tipologia, questa sua nuova amata tipologia di video, la fa sempre, perdiamo sempre, pareggiamo, non vinciamo più. E cioè, ma cacchio, ma un po' di scaramanzia, dopo un po', non ti viene in mente di farla, porco tutto, se anche col Gena non vinciamo, è colpa nostra, perché siamo in crisi, lo so, ma cacchio, ma un po' di scaramanzia, ma tu non ce l'hai, porco puttana. Se da dopo il derby, partita persa, continui a fare sto video, e in campionato non si vince più, ma non ti viene un po' in mente che devi un po' piantarla di fare. Poi francamente, hai veramente scassato, eh, cioè non so veramente a chi faccia ancora ridere e continui a tirare pugni su quella cacchio di scrivania, ma il cacchio mi vuole rappresentare. Ok, va bene, divertente, sì, sì, stai qui, tiri pugni, eccetera, tutto, un po' può essere anche una questione di intrattenimento, ma il cacchio mi vuole rappresentare, ma lo fai solo per monetizzare, lo fai solo per monetizzare, ma cosa vuol dire? Se dopo un po' basta, è anche quella, cioè non è che è una cosa proprio che ti fa onore, eh, cioè se ti ripugni sulla scrivania, lo fanno chi è veramente arrabbiato pazzoide, eh, cioè adesso non mi è mai stato troppo, non ti sei mai stato troppo simpatico, eh, francamente. Però comunque, sentirti parlare anche per gli altri era un piacere, ma adesso mi stai veramente rompendo il cazzo, con questa tua nuova tipologia di video, la tua nuova amata tipologia di video, tanto per farlo sportivo non hai un minimo di scaramanzia e da quando la fai sempre non vinciamo più, e tiri pugni sulla scrivania e fai tutto quel cacchio che vuoi. Io parlo direttamente, anche se questo video non lo vedrà nessuno, però magari dal titolo qualcuno mi ha anche dato una vista. Poi, no, oltre che Neskium ci sono anche molti altri diffusi, ho notato veramente una cosa. In estate, no, eravamo un po' tutti contro Zhang, Zhang, out, dimettiti, ma che cacchio stai facendo, vendi Achimi, vendi Lukaku, vendi, ancora un po' vendi Lautaro, ma me cari, ancora un po' vendi Lautaro, vendi la squadra invece di vendere i campioni, dimettiti, non sei serio per il calcio europeo, vai a vendere lavatrici, torna in Cina, pezzente, cioè li avete augurati di tutti, di tutti, anch'io ero per lo Zhang out, cioè dopo quest'estate quindi praticamente tutti contro Zhang. Poi, poi, ah no, aspetta, prima di quest'estate, quando abbiamo vinto lo Scudetto, tutti a fare i ringraziamenti ai giocatori, allenatore, e anche a Zhang, diciamo, grazie Zhang, dopo tutti questi anni sei arrivato tu e ci sei fatto tornare a vincere con i tuoi investimenti, grazie zio Zhang, ti vogliamo bene, tutto. Poi la storia di quest'estate, dimetti, ti fai schifo, non sei serio per il calcio europeo, vendi la squadra, tutto, tutto, non hai più soldi, sei un povero, cioè non hai niente. Poi, dopo la vittoria della Supercoppa, che avevano intervistato anche Zhang, tornato in Italia, tutti a dire scusa, zio Zhang, non era tutta colpa tua, Lukaku ha chiesto l'accessione da Vigliacqua, Kimi per il bilancio, ti siamo riconoscenti per il lavoro che hai fatto, fatti solo, torna più spesso in Italia, tutto, tutto, sì. E poi, cioè, cosa tra l'altro in contraddizione, perché c'è chi diceva, non lo voglio più vedere in Italia, sto cinese del cacchio, e qui, dopo la vittoria della Supercoppa, invece gli va a dire, torna più spesso in Italia, gli chiedono scusa, non è tutta colpa tua, eccetera. Dopo queste recenti prestazioni, quindi, a seconda dell'andamento della squadra, ancora una volta, Zhang, è colpa tua, non hai messo i soldi per comprare gli attaccanti, dimettiti ancora una volta, inzaghi out, questo non c'entra niente, però, dimettiti, non hai dato i soldi, adesso è colpa tua, anche colpa tua, se siamo così, vergognati, c'è veramente un bipolarismo che io proprio quasi non mi riesco a spiegare. A Zhang va bene ringraziarlo, perché è un scudetto, e va bene andargli conto, per questo è quello che è successo quest'estate. Stop! Stop! Cioè, non è che adesso, ogni volta che si vince, scusa Zhang, che si fa vedere, scusa Zhang, e ogni volta che si perde, schifo Zhang, e mi state rompendo il cazzo pure voi, eh, tutti quelli che ogni volta salgono sul cazzo, non ci salgono più. Non so se avete sentito la suoneria. Poi, dopo, dopo il tutto, dopo il tutto, adesso, veniamo a una cosa un po' più dettagliata. È un po' presto per dirlo, è un po' presto per dirlo. Ritornando alla guerra russia-ucraina, adesso che Milan e Napoli sono in testa alla classifica, ancora non ho sentito nessuno, proprio nessuno, parlare di, Eh, ma questo è lo scudetto della guerra, è il campionato falsato, l'ho sentito solo dire dopo i torti arbitrali contro il Milan, solo lì l'ho sentito dire. Non ho ancora sentito nessuno parlare di scudetto della guerra, scudetto del conflitto, del nucleare, cioè tutti i nomi che cacchio vi potete inventare. Perché dico questo? È giusto che non sia ancora detto. Ma, secondo me, se fosse stato in testa l'Inter, a quest'ora, con anche un po' più di punti di vantaggio, soprattutto, secondo me già qualcuno sarebbe venuto fuori col dire, ah, solo così possono vincere, con i torti arbitrali contro gli altri, campionati falsati, con disastri come la guerra, come lo scontro ucraina-russia, come i conflitti, come le bombe, solo così riuscite a vincere. E sarebbero di nuovo partiti i nomi scudetto della guerra, scudetto di qua, scudetto falsato, scudetto di tutto quel cacchio che volete. Quindi, anche questa cosa qui, a me fa un po' celare le palle, eh. Perché, cioè, scusate, pensateci un attimo, ora Milan e Napoli in vetta, nessuno ha ancora tirato una parola su di questo. Magari non ci avete neanche pensato, però adesso provateci. Secondo voi, se fosse stato in testa l'Inter, già qualcuno avrebbe cominciato a parlare di scudetto della guerra, scudetto di qua, scudetto di là. E sicuramente campionato falsato sarebbe stato un gridato a più voce. Quindi, provate bene a pensare chiunque guarderà questo video. E che cacchio! Cioè, adesso mi sono voluto un po' sfogare su queste cose. Adesso mi sono voluto veramente un po' sfogare su queste cose, perché finalmente il mio pensiero lo devo esprimere una volta tanto. E che cacchio! Vabbè, non ho più nient'altro da dire. Ciao a tutti, ci vediamo. Ci vediamo probabilmente per il post partita del derby di Coppa Italia. Ciao!